eh vedi rischi così eh però è arrivato su un cazzo cazzo non riesce a partire non riesce a partire dobbiamo tirarla su Leo se anche torno là indietro ma non riesco a dargli non riesco a dargli così non riesco più spetta non riesco spetta buona loria grazie qual cazzo dai su passa passa muoviti cazzo mi fai bravo 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 simone vai ha il reger riger è un pelo c'eri bravo 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 Grazie a tutti.